Si presentava presso le attività con tanto di tessadino di riconoscimento e si spacciava per maresciallo capo della Guardia di Finanza, l'uomo fermato in queste ore dai veri militari delle Fiamme Gialle di Brescia. Durante un controllo in centro città, infatti, i militari del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno notato un uomo che nei pressi di un centro massaggi, notata la pattuglia in servizio, aveva un atteggiamento nervoso e circospetto che lo ha portato anche ad allontanarsi in fretta, tentando in vano di far perdere le proprie tracce. A questo punto lo hanno fermato e condotto in caserma, dove grazie agli accertamenti sulle banche dati hanno riscontrato che si trattava di un personaggio già noto alle forze dell'ordine con numerosi precedenti penali. E' quindi scattata la perquisizione della sua auto e del suo domicilio. Proprio in auto hanno trovato 600 euro in contanti ed il falso tessadino di riconoscimento della Guardia di Finanza, contanto di fotografia, false generalità e falso grado, quello di maresciallo capo del nucleo operativo di Bergamo. In casa, a Doffanengo in provincia di Cremone, militari hanno trovato anche 23.000 euro in contanti, di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Tutto ciò che è stato trovato in casa e in auto è stato sequestrato, mentre l'uomo è stato trattenuto in arresto. Durante l'udienza di convalida, con rito direttissimo, il giudice ha convalidato il fermo e disposto alla custodia cautelare in carcere dell'uomo.